In un futuro distopico. Nord. La salvezza è a nord. Quanto manca? mi chiede Ana. Dovremmo arrivare per le dieci di domani mattina. Sempre che la benzina basti, penso, senza dirglielo per non preoccuparla. Le dieci? Bene! Ana è di poche parole e a me sta bene così. Ci facciamo compagnia. Ne abbiamo percorsi di chilometri insieme, penso, quando un suo urlo mi distoglie nuovamente dai miei pensieri. Ferma la macchina! Che succede? C'è una fottuta zanzara qua dentro. Calma, non c'è nessuna. Ferma questa cazzo di macchina! Mi sta ronzando nelle orecchie. Va bene, ok, mi fermo. Ana ha ragione, ora è immobile sul cruscotto. Ho ancora dei buoni riflessi. La schiaccio con un rapido colpo della mano, lasciando sull'auto una minuscola traccia di sangue. Ora va meglio? Te l'avevo detto che c'era una zanzara! È vero, me lo aveva detto. Aveva ragione, le donne hanno sempre ragione. Sarà bene fermarsi a riposare. Vedo una radura, isolata ma protetta. Il SUV che ho preso a prestito è ampio e dietro c'entrano due sacchi a pelo stesi. Faccio io il primo turno, le dico. Dormi pure, anche se di notte i bambini non attaccano. Non se lo fa ripetere due volte, si addormenta subito. La guardo. Ana è in gamba, è fatto suo. Penso che potrei innamorarmene, anzi, forse ne sono già innamorato. Ana è l'unica cosa buona che mi ha portato la pandemia. C'è silenzio nell'aria e riallaccio il filo con i miei pensieri. Ricordo tutto perfettamente. A novembre, in un mercato etico di Wuhan, un uomo contrae il virus, torna a casa e contagia la sua famiglia. Se vivessimo al tempo degli antichi romani finirebbe qui. Il virus morirebbe in Oriente, ma in questo mondo globalizzato basta un aereo e in 24 ore arriva dalla parte opposta del pianeta. A gennaio è già in Europa. I governi lo sanno e redigono un protocollo per le emergenze sanitarie che riporta come data di fine emergenza il 31 luglio. A febbraio ci sono i primi casi. Non siamo preoccupati e le reazioni eccessive di alcune persone ci sembrano esagerate. Ma poi chiudono tutto. Il 9 marzo viene annunciato il lockdown. L'emergenza, che doveva durare fino al 3 aprile, si protrae invece sino al 4 maggio. Poi il 16 maggio arriva dall'Africa una bolla d'aria calda che investe l'Europa e porta con largo anticipo l'estate. I casi crollano, la curva dei contagi scende. È un miracolo. Il 30 maggio il virus è ufficialmente morto. Zero decessi, zero contagi. Il 31 maggio viene dichiarata festa mondiale e sulle spiagge di tutto il mondo si accendono i falò. La gente balla, si ubriaca, fa l'amore. Com'è strano l'uomo. Fino a ieri non dava la mano nemmeno ai parenti e oggi fa sesso su bagnasciuga senza precauzione con perfetti sconosciuti. È l'estate più torrida e più piena di zanzare di sempre. Ma a nessuno importa. Il 5 giugno qualcosa non va. Vengono registrati dei casi, anomali e sembrerebbe differenti rispetto ai precedenti. Addirittura dei decessi. Il 10 giugno tutto il mondo annuncia un nuovo lockdown ancora più restrittivo. C'è il coprifuoco, vige la legge marziale e per le strade girano i soldati. Non si può uscire neppure per buttare l'immondizia. Bisogna calarla in appositi contenitori. Sarà ritirata da personale specializzato. Il 12 giugno il video di un immunologo su YouTube fa il giro del mondo e getta la popolazione nello sconforto più totale. Il virus non è naturale ma creato in laboratorio. Questo ne ha fatto una pericolosa arma batteriologica capace di mutare e diversificarsi in milioni di varianti. Inattaccabili dai vaccini e molto, molto più lettali. I governi hanno perso il controllo della loro arma che era nata come uno strumento per controllare la sovrappopolazione. Il virus si è replicato, impazzito, finendo per essere veicolato dalle zanzare. Il nuovo virus non teme il caldo ma il freddo e si trasmette col sangue oltre che per via aerea. In questi mesi invernali è mutato, acquistando forza. Basta la puntura di una zanzara portatrice e siete spacciati. Signori, il mondo come lo conoscevate è appena finito.